le cose sono due se tu conosci queste strutture in qualche maniera hai messo dei punti di riferimento sai come orientarti altrimenti non è che non disegni c'è gente che disegna benissimo però è come sempre è come se fosse sempre la prima volta è come se affrontassi sempre un discorso completamente nuovo perché la mappa di quello che vedi e ti trovi davanti se non hai compreso le strutture che collegano gli elementi non la cogli e quindi ti devi affidare solo a quello che vedi e questo se stai disegnando dal vero se stai disegnando a memoria non la metti quindi è per questo che io insisto abbastanza sulle strutture quando lavoro sulla testa vedo che alcuni la prendono come una fatica d'altronde la differenza fra i professionisti e i direttanti è proprio questa i direttanti fanno solo quello che gli piace e quindi rimangono per me a certo punto i professionisti gli tocca imparare un po' tutto perché devono rispondere non a quello che piace a loro ma a quello che piace agli altri quindi loro disegnano per gli altri invece che disegnare per se stessi uno può pure disegnare a me piace fare gli scarabocchi così e chi gli dice niente va bene non è un problema però se vuoi fare comunicazione con quello che dici ti devi inventare una maniera che quegli scarabocchi siano significativi in qualche modo comunque tornando a noi abbiamo se avete visto il modello abbiamo una bocca leggermente discorcio e quindi il suo lui lì nel modello la manda giù dritta io tutto sommato comunque farei un arco tanto perché non mi va di non complicarmi la vita che poi non è neanche un arco poi la tagliamo si vede così la tagliamo e chiaramente essendo discorcio mi finisce qui da una parte e dall'altra mi finisce qui sto disegnando senza prendere le misure quindi non è poi che succede che sta a bocca qui va in dentro però vi ricordate la pallina? in realtà qui io ho quella questa pallina no? che sta rispetto a questo asse in avanti poi va in giù vedete? e poi va in giù quindi qui torna su un po' e poi fa così quindi ciò va bene da quest'altra parte in realtà qui facciamo che c'è un'ombretta e anche qui come me la mette lui in realtà qui va giù e poi torna su solo perché qui di nuovo c'è la pallina qui c'è la pallina e qui c'è la pallina e sono una davanti all'altra adesso le metto esagerate questa è la metà quindi qui fa così praticamente e qui fa così di nuovo qui c'è una pallina e qui c'è un'altra che sta davanti per cui qui mi gira in questo modo lui va qui va a disegnare la vedi che sbaglia quello è sbagliato il disegno è sbagliato perché se non tieni conto del fatto che questa cosa fa così e tieni conto solo di questa linea anzi lui ce l'ha pure dritta questo qui ti risulta indietro e non è così perché questo qui sta già comunque più davanti con tutte le linee di costruzione quindi le devo levare sta più davanti qui scende un po' qui invece c'è la parte che si gonfia e questo se ne va giù così questo labbro lui lo fa più vabbè non mi frega niente ci siamo ok e allora fate queste linee generali peraltro qui lui ci mette una cosa vi ricordate che avevo detto e qui c'è un pallino e qui c'è un altro pallino no qui qui diventa evidente vedi allora che succede qui prima alleggeriamo perché poi già che ci siamo lo facciamo ancora ok e qui diventa vedete che succede qui diventa indistinto e qui da qui dalla piega esce un'altra linea allora ciao ciao Grazie a tutti.